Io sono il dottor Mauro Quattrocchi e sono rappresentante legale, presidente di questa organizzazione di volontariato che si chiama Ambulatorio Solidale, articolo 32, una associazione di medici e di infermieri, tutti pensionati, che si occupano della popolazione indigente offrendoli servizi sanitari, tutti gratuiti, sulla base dei loro bisogni. Noi dobbiamo ringraziare la fondazione Giorgio Tesi che è molto sensibile a questi tipi di iniziative e che ha reso possibile trovare questa sede pagandosi l'affitto.